ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un'altra puntatella dedicata alle vostre collezioni di orologi a voi che ce li esponete e al vostro percorso in questo simpatico hobby come si suol dire come partecipare lo sapete basta realizzare un video in orizzontale anche con lo smartphone e poi inviarlo via email al mio indirizzo ok prima lo caricate sul portale we transfer.com così io lo posso scaricare con una risoluzione decente detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo omega speed master orologio con 42 mm di diametro cas calibro quassiale 3861 il classico mu watch nella sua versione definitiva definitiva per modo di dire attuale la più moderna che hanno realizzato questo qua vetro zaffero sopra e vetro zaffero sotto ora vorrei ricordarvi che giovedì 21 cioè prossimo giovedì fra pochi giorni io sarò presente in negozio da presso la gioielleria pasquale domenici di via regio che parte l'ufficiale del canale per fare gli auguri di natale lì al buon giacomo e alle ragazze al personale alla fabiana insomma saremo lì magari no se qualcuno si vuole aggiungere che è in zona che è della zona giovedì pomeriggio dalle 4 in poi saremo lì a fare gli auguri di natale se ci riesce a fare anche una bicchierata faremo anche una bicchierata insomma tra di noi così tra amici se volete venire venite vi aspetto lì e sono lì si parla di orologi si guardano gli orologi c'è poco da fare adesso siccome è natale infatti vi faccio vedere il mio ultimo acquisto che questo simpaticissimo omino simpatico la adesso ci mettiamo l'occhialone e diamo il via al primo video su da allora davide come vedi sono corsi ai ripari addosso guanti da cameriere dopo l'inferno del guanto rotto che detto così potrebbe essere frainteso allora cercherò di non usare termini abusati quali molto bello fa il suo da soddisfazione eccetera eccetera nel caso mettiamo un bel fake allora cominciamo subito vi faccio vedere il mio unico quarzo ovvero un quarzo non a batteria ma se sono scherzoni scherzoni a questo come tu ben sai un taggoyer acqua racer 40 mm si ametro ci piacciono orologio che ho preso con questa colorazione rossa perché lo rende ancora secondo me più speciale e più sportivo orologio perfetto sarei dire te l'appoggio passo poi a un rado captain cook troppo 43 mm di diametro monta il calibro r801 cosa dire di rado master of materials bravo sintetizzare eh sì poi passiamo al più recente Longin Legend Diver top 39 mm di diametro bello c'è anch'io veramente sottile un orologio tanto agognato è finalmente arrivato sei contento io sì io ce l'ho questo invece è un classico Rolex Submariner gonfia degli anni 90 top che ho fatto revisionare da poco orologio che mantiene il suo fascino e il suo valore certo indosso spesso anche con una certo certo orgoglio orgoglio bravo cambia i termini dai passando agli evri dei watch ti faccio vedere questo king seiko goffia questa bella colorazione a rovescia argente a recente alla rovescia ottimo anche il bracciale domini dell'orologio nipponiche tagliate quasi con la katana sembra ma che bello è rovescio every day watch every day watch quasi perfetto quasi perfetto bello bello piace mi piace assai lo vorrei anch'io passo poi a un rolex the just anni 90 lunetta indice sfera in oro bianco e certo anche questo fatto revisionare bravo roggio che conserva appunto la sua eleganza intramontabile 34 mm diametro cassa 34 questo invece è un orologio che tu conosci molto bene è bello rato golden horse che ho preso con questa colorazione verde soleil se roggio anche questo diciamo dal dal gusto tipicamente retro bracciale indossabilissimo molto comodo bravo il topino che quello lì da faccio vedere un cronografo che non si è molto visto credo forse mai visto su questo canale un cronofo della emilton un emilton riva un orologio sicuramente particolare non per tutti i gusti ma che secondo me è assai assai originale un orologio che nasce dalla collaborazione tra l'emilton e la industria nautica certo bello anche il fondello con questa rosa dei venti si e su ogni punta della stella traspare la massa oscillante si calibro da bravo simpatico è altro cronografo è quello della jungans bellino jungans meister chronoscope chronoscope se mai fascino tipicamente retro anche tedesco interessanti e direi quasi spettacolari a mio modo di vedere gli incontatori in cavi certo orologio apparentemente assai sottile si camuffano passo poi a un cronografo vintage ovvero un brightling cronomat degli anni 90 con questa stupenda colorazione grigio solel del quadrante è già lunetta indici in oro comunque questo qua è una configurazione che mi piace un casino un casino un cronomat poi ragazzi si è nel mio cuore ora io vedo il che ti spunta dal polsino della camicia secondo me quello lì che c'hai sul sul polso è uno zenith il primero te lo dico così tra butto lì secondo me è quello orologio fatto revisionare in condizioni direi quasi intatte atti revisionati di a e bravo ci si attiene altro vintage e questo zenith surf surf anni 70 diametro cassa 40 mm monta un calibro 25 72 pc arroggio estremamente sottile cinturino originale zenith tranne alla fibbia che come puoi notare appartiene a una generazione successiva degli zeri per finire ti presento questo cronografo della sultana una fabbricante svizzero credo che sia nato nella fine delle anni 40 che ancora ho visto sul su internet ancora ancora esiste una cronografo che monta un landeron 248 cassa tonno fatta ricromare interessanti sono gli indici tridimensionali trapezzoidali orologio particolare che si piace e adesso ti presento quel famoso orologio prezioso che ti avevo preannunciato quindi il rullo dei tamburi eccolo qua trattasi di un time counters limited edition ovvero un contatori del tempo edizione limitata un orologio che ho fatto commissionare proprio ma dai onore sperando di non incorrere i problemi di copyright ma no però non ciò fecchino te lo diamo da ora calo davide con questo avrei concluso al polso spero di essere stato abbastanza spiritoso di non avere oltraggiato il mano brand del canale ma no ma figurati e ci tengo come al solito il tuo parere sugli orologi e un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale è un caro saluto un caro saluto però quello che l'orologio che il polso non ce l'hai detto cos'è l'orologio che il polso non ce l'hai detto cos'è secondo me non il primo comunque ecco la dimostrazione il fatto l'ultimo orologio che si è fatto assemblare no direttamente da da aliexpress o da quello che con la scritta che gli pareva lui è la dimostrazione di come si possano fare orologi da catalogo e ce ne sono un sacco di marchi che li fanno senza arte ne parte te gli dici mi fai quell'orologio lì con quel quadrante di con scritto sopra gigetto o scannatore e te lo ti mandano 50 orologi con scritto gigetto o scannatore e te ragazzi questo è il mio nuovo brand di orologi quindi comprateli te l'hai pagati 50 euro l'uno li vendi a 900 è fatto i soldi è così che funziona quindi quello che voglio dire io è andare a vedere sempre dietro chi è chi c'è chi non c'è come te ad esempio detto sultana no è un marchio degli anni 50 60 è detto che esiste ancora oggi va bene io non ho mai verificato non lo so non mi interessa nemmeno a dire la verità andare a verificare vedere chi sono ma sono convinto al 99 per cento che si tratta di qualcuno che ha ricomprato quel marchio che non c'entra proprio niente con con la sultana di una volta anzi che stava magari commercializzando gli orologi in determinate aree geografiche perché noi siamo qua nel nostro piccolo mondo ma in tutto il resto del globo cioè i mercati sono giganteschi e cioè ci può essere anche un marchio che decide di acquistare i diritti di quel nome e poi lo utilizza solamente che ne so nell'asia continentale no oppure in india miliardi di persone basta l'india per fare un mercato quindi noi non lo sappiamo questi sultana qua oggi cosa magari sono cinesate no comunque la tua collezione è veramente veramente interessante perché spazia dai rolex a quelli un pochino più meno mainstream noi un gas cronoscopo il radio cronografo meglio orologi con con un'ampia gamma di di marchi è solitamente è quando uno è appassionato che si fa prendere che sennò spenderebbe soldi sempre nello stesso marchio sempre nello stesso livello invece te cerchi un po di spaziale sono sono te l'appoggio dai diciamo così bravo buon natale e ci vediamo alla prossima prossimo video ciao davide ciao miliano emiliano saluto a tutti gli amici del canale allora volevo presentarti i miei dress watch se che ho utilizzato partì in praticamente per negli ultimi 15 anni su accetti ufficio per andare in moto per fare tutto insomma tutto tutto e poi cosa è successo successo che fermi tutti fermi tutti perché qua diamo un'occhiatella perché le persone mettono sotto sullo sfondo degli oggetti che li rappresentano per dirti ecco a me piace questo io sono questo e sono quello la parigi dakar lì con quella motorella lì a me la parigi dakar non è che mi garba tanto i per jam i per jam sono uno di quei gruppi da odiare a parer mio perché quando è arrivato il grunge nel 91 92 93 ha rovinato tutta quella musica che a me è sempre piaciuta cioè lo street il glam l'hard rock del fine anni 80 inizio anni 90 no era una scena quella di los angeles veramente poi sono arrivati nirvana i per jam gli stone temple pilot e quegli altri che erano i sound garden no mamma mia musica triste grigia pesante due coglioni così infatti poi si sono ammazzati tutti è finita così per jam giù via mi sono imbattuto in questo orologio che stava un mio mio caro amico mi ha mi ha mi ha colpito mi ha colpito parecchio e mi ha raccontato un po la storia del 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 mar che insomma ne sono rimasto affascinato ma sì e ricercando una recensione su youtube ho scoperto il tuo canale questo è successo un sei sei mesi fa circa sei mesi fa da lì ho cominciato a guardare un po di recensioni e tu e mi mi sono incuriosito al mondo dell'orologeria e cosa ho fatto ecco un altro che è caduto nella rete sei mesi fa orologi si orient al di là del brand no ha preso proprio un orologio che che vale la pena avere il kamasu 200 metri vetro zaffero costo irrisorio ci fai tutto quello che vuoi ottimo sono andato in soffitta perché mi ricordavo di avere un orologio e ho riscoperto questo vecchissimo se regalato mi da una fidanzatina al suo perché ora col suo cinturino originale che a batteria ovviamente mi aveva tradito era uscito il liquido l'acido ma ha un simpatico orologiaio sotto casa me l'ha sistemato funziona bene lo uso ogni tanto sinceramente in questi in questi in questi mesi l'ho utilizzato più che altro per andare in moto fare cose un po meno meno pericolose pericolose ho deciso di di prendere un un orologio vintage di botto così e ho trovato questo non lo so ora guardiamo ma prendere così iniziare la passione prendersi l'orologio vintage poi un omega quindi spenderci dei soldi è un po rischioso cioè un pochino come secondo me voler strafare non bisogna strafare in questa in questa passione perché si rischia poi di prendere delle ciampulate capito l'ho trovato l'ho cercato ci cercato nel senso cercavo un omega e questo mi ha mi ha convinto è un orologio che forse non l'ho mai visto sul tuo canale aia è un cosmic un semester cosmic della fine degli anni 60 sembra legittimo con una cassa come puoi vedere chiusa per accedere al movimento orologiaio con uno strumento apposito leva la la lunetta e c'è il movimento l'orologio funziona benissimo l'orologio è particolare ho fatto delle ricerche sul web e ho scovato questa simpatica pubblicità del 67 una pubblicità finlandese appunto nella quale si dice che la cassa dell'omega cosmic è resistente come il guscio di una tartaruga potrebbe essere il primo turtle della storia e tra l'altro anche bellissimo speed master e anche un cronostop molto bello in questa in questa pubblicità ecco per chi conosce il finlandese è tutto chiaro certo poi dilemma comprare una serie di orologi di buon livello oppure io mi conosco e so che quando inizio a comprare non la smetto più allora ho deciso di fare tutto subito ho preso questo spirit bellissimo 40 con quadrante nero che non è un nero assoluto ma da dei riflessi blu ho fatto un po di fatica a trovare questo centurino perché il 21 di passo è praticamente molto molto difficile ma se ce n'è di meno però un orologio che mi piace tantissimo complimenti bravi e sei mesi ultimo acquisto l'ho preso questo cazzo ne spesi e che dire è stata la mia scelta non ho non ho preso altri brand seiko piuttosto che emilton orologi validissimi ma ho deciso di prendere subito un gran bell'orologio e volevo chiederti se vabbè se condividi la mia scelta no perché le scelte sono personali e comunque io spero di rimanere con la scimmia domata per per un po di mesi volevo chiederti cosa ne pensi di questo e come mai non vengono più prodotti o meglio ho forse visto solo un seiko che ha in produzione ad oggi una cassa con una cassa chiusa come questa e come mai appunto secondo te non vengono più prodotti penso forse per la difficoltà nella revisione perché poi servono degli attrezzi apposta e fammi sapere anche se ti piace l'orologio cosa ne pensi dovrebbe essere tutto originale a parte il cinturino ovviamente va bene saluto a te e a tutti gli amici del canale un caro saluto a te allora cosa il discorso della cassa monoblocco lì come questa praticamente viene realizzata la cassa tutta in un pezzo unico e si accede dal dal vetro si toglie qua hai detto la lunetta ma qua la lunetta non c'è si toglie il vetro con un attrezzo specifico e si accede al movimento della parte superiore perché veniva fatto questo perché era un sistema per combattere l'impermeabilità no le infiltrazioni io non sono un tecnico non sono un orologiaio quindi prendete le mie informazioni con le molle si pensava facendo una cassa monoblocco si riducono si riducono i punti di infiltrazione dell'acqua e quindi si può migliorare l'impermeabilità perché non viene più utilizzato perché è obsoleto perché non serve come ad esempio non serve più il sistema compressor super compressor che si utilizzava una volta ossia che realizzare un corpo cassa con un fondello elastico tra virgolette che all'aumentare della pressione aumentava la pressione sul fondello e sul vetro tenendo l'orologio isolato dall'ambiente esterno erano tutte soluzioni tecniche che hanno perso il loro valore perché al giorno d'oggi con un bel fondello avvitato e le guarnizioni che ci sono si ottengono impermeabilità fino a mille metri senza colpo ferire quindi non serve fare una cassa monoblocco non serve fare una cassa super compressor quando le vediamo riproposte ai giorni nostri è per celebrare quel tipo di tecnologia è come se costruisse una macchina a carburatori non è perché migliora le prestazioni di una iniezione è per celebrare quel tipo di magari a carburatore doppio corpo che ha le prestazioni migliori quindi non serve più fare le casse monoblocco è solamente un un peggiorare il sistema di manutenzione l'accesso al calibro interno poi detto questo il punto si è scoperto poi c'è se si è scoperto che è da sempre che il punto critico delle infiltrazioni sono i fori cioè i fori dei pulsanti del di un cronografo o il foro della della corona di carica sono lì i punti è lì che si raggiunge il limite no per cui le con le varie corone a vite con le doppie triple guarnizioni pulsanti cronografici a vite e sono lì il fondello proprio è l'ultimo dei problemi quindi la cassa monoblocco non non ha senso di esistere e poi voglio dire che hai anche seguito il giusto comportamento nel senso io li per lì ti ho detto ecco un neofit a sei mesi sa che si prende subito l'orologio vintage invece insomma in un certo modo sei andato anche a studiare le varie pubblicità hai avuto un riscontro positivo magari era meglio farlo prima no come dico io prima si studia poi si compra però facciamo tutti così compriamo poi andiamo a vedere cos'è quell'orologio che ho preso e hai avuto un riscontro positivo e questo ti dà ragione meno male così non hai fatto un acquisto vano un acquisto vano comunque complimenti per tutti gli orologi da poco che hai avuto la passione sei mesi hai già speso dei gran soldoni perché lo speed master finale lì è proprio un orologio cioè è un traguardo quasi no diciamo comunque se parti da lì poi insomma non mollare non mollare neppure la parte di orologeria di orologi economici entry level da meno perché ci divertiamo anche con quelli cioè anch'io ho voglia di comprarmi un altro citizen da due trecento euro è sempre così siamo sempre sul filo sì l'orologio costoso lassù da prendere però poi sotto c'è tutta una marea di roba che ti che ti perdi se ti fissi solo su quelli ed è bello provare utilizzare poi magari anche rivenderli però utilizzare testare gli orologi anche economici perché danno soddisfazione prossimo video ciao davide ciao saluto a te ea tutti quanti gli amici del del canale grazie sono valerio da roma da roma saluto anche dal mio cagnone che sta lì sdragliato bello rilassato che bello che dorme vabbè dai andiamo subito gli orologi mostro la mia piccolissima collezione inizio con due orologi come dire due due quarzoni come li chiameresti te però trattameli bene perché ci sono abbastanza legato questo qui quest'ottimo sector credo sia degli anni novanta forse per forza mio fratello non lo so non lo vedi come però una forma particolare nonostante sia insomma ma ciofeica sicuramente lo definirai a me non dispiace è particolare va bene va bene va bene vado velocemente all'altra ciofecona ecco da qui sto fantastico sector non lo so sarà 46 una padella bella bella grande un padello guarda qua non male non male not bad fu un regalo di un qualche compleanno di cui non ricordo sinceramente però insomma qualche anno fa forse 15 anni fa credo va bene forse meno meno male vabbè andiamo avanti va scusa ma io qua non posso fare a meno di notare che c'è una signorina con le ciabatte rosa il tutto il pelo intorno vedo quale due zampette ma fate voi passiamo adesso piano piano all'orlogeria automatica iniziamo con un classicissimo posto comandirsky comandirsky da qui sobrio perlomeno devo dire che l'ho sempre calcolato poco poi ci ho messo questo racing rosso che richiama quella stellina sul quadrante mi piace tanto adesso ma c'è solo il nostro spesso non come dire mi mi dà soddisfazione ecco mi piace bravo mi dà soddisfazione questo verde anche vedete passo velocemente poi a un altro super classico insomma anche te venti level questo oriente kamasu kamasu vabbè anche questo è stra usato è strarovinato perché chiaramente l'ho messo in tutte le occasioni spesso al mare quindi lo conosciamo tutti dai bello orologio vado avanti qui passo al mio primo ed unico orologio vintage diciamo perché non sono un grandissimo appassionato sinceramente era l'orologio di mio padre va bene 90 questo sicuramente come e niente ci sono ovviamente legato perché insomma lo indossava lui ce n'aveva anche un altro non design it sport ma mio fratello ha avuto la brillante idea di prenderselo per cui insomma adesso c'era lui simpatico e vabbè uno per uno va bene passiamo velocemente al successivo che è questo Christopher Ward c65 scusa i riflessi non so spero non si rovini il video per forza ci sono anche lui è un bello orologio l'ho preso tre quattro anni fa ha un bel prezzo perché era un secondo polso ma carino quasi nuovo che sobrio elegante misura giusta 38 mm mi piace molto come casa quella inglese anche a me lavora bene Christopher Ward lavora bene ci sta ci sta va bene per me mi piace mi piace e poi andiamo insomma sugli ultimi due pezzi a qui di quelli diciamo di cui vado più orgoglioso iniziamo con questo fantastico Seiko Pospels ci piace questo quadrante tabacco soleil come si dice in gergo è uno di miei Seiko preferiti questo bracciale stupendo ne vado ne vado molto fiero fiero mi piace molto apriamolo un attimo fiero eccolo qui beh bello veramente bello si non male non male mi piace molto ci piace e poi l'ultimissimo pezzo cosa neanche un mese fa eccolo qua questo Hamilton performance da 38 mm perfetto 38 eccolo lì questo era andare al negozio per prendere un mito un ocean star che avevo visto che mi piaceva molto poi per sbaglio ho visto questo qua che non avevo mai visto non conoscevo l'ho provato e ho detto vabbè bellissimo sono tornato a casa ho visto che ti avevi fatto la recensione l'ho guardato detto va bene mi hai convinto e l'ho preso l'ho preso dal buon Giacomo e devo dire che che dire è quasi perfetto si è uno di quegli Hamilton che può essere considerato la versione un po' più civile del Cacifield da 38 il Cacifield da 38 va come il pane però è in stile militare Cacifield no è un field watch questo qua da 38 invece è urbano infatti se non mi sbaglio nella copertina della recensione ci hanno messo le luci della città dietro dei grattacieli perché è un urban un urban watch capito più più la vita di tutti i giorni ma quella in città capito più civile rispetto però è una bella alternativa no ce ne sono due possibilità sobrio insomma è veramente un grande orologio è certo mi piace molto mi piace molto bravo va bene Davide eccoci qua ma non si muove lei la mia collezione è finita spero vi sia piaciuta sì e niente un saluto a tutti anche dal cane ovviamente bau bau baci a presto a presto ciao 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 niente una bella collezioncina di orologi che abbiamo guardato con molto piacere a parte i sector iniziali che insomma no poi c'è un commandis che che per assurdo è uno di quelli più sobri senza carri armati aeroplani navi porta aerei bello simpatico verde militare poi quel secchino lì il secco che hai fatto vedere lì 62 massi no la riedizione io ho fatto la recensione di quello con il quadrante azzurro tutto increspato ma in questa configurazione qua con il quadrante nero centigilto l'altra versione che è completamente nera e gli indici bianchi è più bello mi piace più di quello azzurro complimenti dai belli orologi ho notato che la ragazza lì vicino non si è mossa perché i piedini sono rimasti fermi per tutto il video quindi è frizzata va bene comunque facci sapere se ancora viva prossimo ciao davide ciao Gianmarco faccio i miei complimenti per il canale spaziale allora partiamo con il primo della mia collezione che è questo Hamilton Khaki Shield Mechanical Pioneer 36 mm portati anche meno e ritengo che sia un orologio bellissimo tra l'altro che riprende una storia stupenda una storia fantastica della della casa Hamilton nel periodo post durante post guerra l'utilizzo da parte della Royal Air Force inglese è un orologio davvero bello Cassa Tonno a me piace tantissimo sì l'unico punto debole di questo Pioneer è il vetro minerale non si capisce perché hanno messo il vetro minerale perché probabilmente per fare un omaggio per celebrare l'orologio della seconda guerra mondiale però ce lo metti in plexiglass allora se vuoi fare l'omagione l'omagione invece così ci hanno messo il minerale che avrei preferito un zaffero però non ci fermiamo di fronte ai vetri minerali anche io ce li ho orologi con vetro minerale poi passerei a questo che è un Seiko Sport 40 mm di diametro cassa alla particolarità semplicemente di avere oltre al datario doppio datario in inglese ma anche in giapponese perché l'ho acquistato in un mio viaggio appunto in Giappone l'ho acquistato a Tokyo come non andare in Giappone senza acquistare un Seiko un Seiko chiaramente hai pagato le tasse quando sei rientrato Rolex però davvero è un orologio secondo me da avere in collezione si concordo con te poi ti faccio vedere questo IMA è una casa che apprezzo molto che l'apprezzi anche tu la recenzita IMA è uno di quei casi strani nei quali sono partito completamente indispettito e indisposto nei confronti della casa per poi ricredermi lungo tutto il viaggio ed è iniziato quando mi hanno mandato un orologio e io ho accettato dopo un lungo corteggiamento ma ti mandiamo un orologio dagli un'occhiata guarda rimaneva un dubbio che avevo sul fatto del calibro in house o meno poi ho visto certi video non ho mai trovato un un indizio neppure un millimetro di dubbio sul fatto che potesse essere fatto come in certo modo quindi sono crollate tutte le mie idee negative che avevo sul sulla casa e da quel punto lì poi gli orologi sono fatti bene sono belli li vedete azzeccano sempre le uscite quindi la metto a livello degli altri degli altri marchi questo è il superman 500 dato ha ho voluto la versione con quadrante con dial bianco proprio per secondo me la bellezza che ha questo quadrante con con le variazioni della luce e tra l'altro è ben leggibile anche se ci sono gli indici bianchi sul quadrante bianco devo dire che sono sono leggibilissimi e donano qualcosa in più a questo qualcosa di più particolare a questo bello orologio che tra l'altro anche qui movimento in house e ma 2000 insomma per il prezzo che ha secondo me è un orologio superiore di essa poi ti faccio vedere questo omega rail master 8 o stato in corea del sud in corea del sud bravo dove mi chiede tutto il mondo anche questo quale l'avrei portato poi dopo alla dogana e detto ho comprato questo devo pagare l'iva no vero no si è messo al polso e sei venuto via un borsa era il master non si vede tanto sul canale non se ne parla spesso di questo orologio qua perché in effetti non è che abbia con tutto questo successo è particolare cioè preferisco i rai master vecchi che però i rai master vecchi hanno per quello che preferisco perché assomigliano molto all'acqua terra cioè di quel periodo dei primi anni 2000 l'acqua terra il rai master degli anni 2000 e si assomigliavano questo qua hanno cercato un po di differenziarsi no a un certo punto del corso e andare per la sua strada del rai master ma non mi convince nemmeno a me tantissimo cioè bello top o bello orologio ma quando devo pensare un orologio da acquistare a un omega ad acquistare quello di fatica a rientrare nel ventaglio delle possibilità ora guardiamo con una buonissima occasione nuovo spero di sostituirlo o aggiungervi a lui la versione trilogy 57 riprende di più il fascino vintage di questo orologio che una bellissima storia cinturino lo cambierò non mi piace molto la trama però è anche uno dei più recenti anche questo che ho acquistato però è davvero un orologio stupendo con tutte le caratteristiche fantastiche che ha un coassiale un movimento coassiale omega certo secondo me ne vende un poche poi ti faccio vedere l'ultimo arrivato in casa in casa mia che è anche uno degli ultimi arrivati in casa tudor black bay 54 secondo me è superiore al 58 nonostante le dimensioni ridotte che secondo me sono più che sufficienti per quanto sia stato migliorato prima di tutto così come nel ghiera rossa il bracciale e il lock appunto del bracciale stesso materiali veramente degni di casa rolex e le linee riprendono veramente le dimensioni dipendono riprendono veramente tantissimo il l'originale black bay del 1954 poi ti presento secondo me il migliore questo è un iwc mark 20 è un orologio 40 mm movimento con riserva di carica di cinque giorni secondo me è bellissimo guarda le finiture mamma mia anche qui con una storia esagerata che mantiene in buona parte le linee con tratto moderno però le linee dei primi pilot semplice leggibile per me è bellissimo lo sostituito questo nasce col cinturino in perle nera e l'ho sostituito con un nato che secondo me ci va alla perfezione poi ho un immancabile se possibile è sempre bene averlo fantastico 38 61 mega speed master questo è la versione salite tu so che hai la versione la versione vetro zaffero comunque insomma è un orologio che si commenta da solo certo poi tra gli orologi che si commentano da soli ho anche questo Rolex Submariner che ha sostituito il mio 114 060 appena mi è arrivato un concessionario questo è il 124 060 cassa 41 mm movimento 32 30 orologio vabbè è praticamente ha un cinturino per me perfetto è come se già 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 incassato è un qualcosa di meraviglioso dal punto di vista della fattura che che se ne dica che che sia uno degli orologi più inflazionati del mondo forse il più inflazionato del mondo per me è da avere in collezione assolutamente poi ho questo Rolex GMT Master 2 anche questa è l'ultima referenza ovviamente questo è sempre 32 30 al movimento come 32 30? ha la particolarità di essere un 40 invece di un 41 nelle nuove generazioni appunto è una bella cosa secondo me perché se stanno andando tutti sul 41 i Rolex e questo e lo Yacht Master mantengono i 40 mm bellissimo dopo tre anni d'attesa e comunque a grande fortuna nel 2021 l'ho ritirato eccezionale e per finire ti faccio vedere questo vintage che è bellissimo è un Omega Constellation del 1961 un calibro 5.61 in condizioni perfette mai lucidato fibbia originale il cinturino l'ho sostituito io è un orologio da un fascino veramente senza tempo è per me bellissimo mamma mia che bello spero di riempire l'ultimo buchetto della mia cassettina con un dress watch magari moderno e se hai qualche consiglio da darmi ovviamente da te sono sempre ben accetti ciao Davide ciao 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 no non te lo do non ce lo voglio darti un consiglio un dress watch moderno non lo so prendi un Patek Philippe Calatrava ora cavoli belli orologi una bella collezione tutta bella bella variegata e pezzi costosi hai sbagliato a dire il calibro del GMT che 32-30 non è perché 32-30 è un solo tempo senza data lì c'è calibro GMT non mi ricordo qual è però ho notato l'errore 31-86 32-86 non lo ricordo però non è il 32-30 beh dai sei sei promosso il dress watch non lo so cioè a me mi viene da consigliarti sempre i soliti orologi con un glass out original prendi un glass out original di quelli classici non mi ricordo nemmeno il modello però anche lì non mi sembra che fanno da 40 mm c'è un dress watch deve essere 36 35 34 ti prendi un vintage un Patek Philippe Calatrava di vintage che lo paghi un po' meno con il suo bel diametro contenuto e siamo tutti contenti così rimani sul livello di spesa di quelli lì che costano gli orologi costosi poi devo sapere tutto io anche noi prossimo ciao Davide parto subito con la collezione vai così non perdiamo tempo si parte dai orologi a batteria a batteria Zodiac Grand Rally pagato il giusto cintino racing nero ci sta bene mi piace molto fa la sua figurata fa la sua fai il suo batteria fai il suo molto bellino simpatico dai la batteria però diciamo secondo me ganz ha un suo senso anni 90 Tagoer 2000 Professional Trizio Trizio si legge dalla T sullo Swiss Made questo ho preso da un mercatino di recente perché proprio per togliermi lo sfizio di un nuovo orologio ah quasi pari al nuovo a parte qualche graffietto e devo dire mi piace molto portarlo fatto bene dai molto bene il mio colchio così piccolino l'acquisto è compulsivo passi lo vuoi poi si passa diciamo ai regali questo mi è stato regalato mi sembra per i 18 anni McOions bello i suoi begli anni è stato anche riparato però si mantiene giovane diciamo lo consiglio a tutti in questa configurazione secondo me è anche uno dei migliori Hamilton Kaki manuale mechanical mi piace sempre metterlo diciamo non lo uso moltissimo però però ci sono dei periodi che magari uso solo questo negli anni è un orologio che è intramontabile se uno mi dice che un orologio posso comprare io gli consiglio questo bravo consiglio un sempre Hamilton qualche anno fa presi era uscito da poco il modello nuovo presi questo Hamilton Kaki Scuba 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 l'unico problema di questo orologio è che il bracciale originale mi è scomodo molto scomodo quindi ho trovato questa soluzione maglia squalo non mi fa impazzire maglia shark eh squalo come dici te qua ci potresti guarda l'unica soluzione poi dipende dal contesto nel quale lo usi un bel nato con un bel nato arancione nero che riprende la ghiera d'estate ci vai al mare e fai quello che vuoi poi lo gioco se lo vuoi indossare anche magari ma anche d'inverno ci sta bene un nato con un nato risolvi tutto perché poi come ragiono io no in un paio di orologi in tutta la collezione dipende anche da quanto è un paio di orologi col nato ci stanno non è che sono un fan sfegatato del nato però per variare nell'insieme per diversificare un bel nato ogni tanto in un orologio specie se d'estate l'inverno lo porto così in estate invece metto una gomma un tropic gioco un po' sui colori diciamo con questo mi piace giocare sui cinturini va bene e devo dire che difficilmente me ne separerò bravo sempre rimanendo un po' diciamo sull'ambito militare qualche tempo fa ho preso questo Vostok non avendo Vostok ho scelto un modello un po' più particolare che poi è molto ricerchato a quel tempo che ricalca gli stilemi un po' del quadrante di un po' proprio uguale di Panerai la cassa è proprio una cassa cassa Vostok e poi ci ho messo questo cinturino artigianale ci sta benissimo è carino diciamo viene notato hai fatto bene a sceglierlo senza data perché sti orologiacci qua russi quando non c'hanno lo scatto rapido della data la regolazione rapida della data quindi devi andare avanti con la lancetta per cambiare data ogni volta se vuoi essere preciso adesso lo indosso magari lo indosso per un giorno devi stare a tribolare a mettere questo minchione di data per essere preciso allora a volte la passi vai via la lasci andare invece senza data hai risolto il problema nulla di che un Vostok però non i soliti anfibia o comandischi questo è un po' più strano ecco ma esisterà sto qua buh passiamo all'orologio diciamo delle cerimonie Eberhard Hyperball vero eh preso così solo l'orologio tempo fa un orologio di forma particolare non fa più Eberhard penso ne abbiano venduti quattro ehm però però sta bene al polso un po' simile Cartier ma con con la sua però forma originale e mi piace lo uso poco giusto matrimoni battesimi eccetera però ci sta ci sta nella collezione un orologio così elegante certo particolare un altro orologino simpatico lanco di forma anni 70 eh sì questo l'ho fatto rivisionare bravo che non andava più non girava più la corona e adesso è a posto sembra fatta apposta per il mio polso e anche questo lo uso poco anche perché avendo il vetro plastica ah beh ho un po' paura e questo a cambiarlo sarà impossibile trovarlo quindi quindi lo uso diciamo centellino l'uso in casa in vintage lo usi in casa come faccio io con dei vintage altro vintage della collezione questo mi fu regalato da mio babbo rotto bello top l'ho portato a un'assistenza seico e con 100 euro comunque la sostituzione di un paio di pezzi è tornato nuovo è questo secco POG anche se non è il classico no questo ce l'ha nero 6139 sempre carino purtroppo non è il bracciale dovrei comprare qualcosa di aftermarket ma va bene così che si trovano però anche con la pelle nera non sta male ma no anche questo lo uso poco ma questo proprio per paura di rovinarlo diciamo gli orologi anni 70 cerco un po' di di utilizzarli meno perché non mi fido non mi fido troppo di me stesso diciamo va bene dai e poi diciamo l'orologio un po' più di livello leggermente mi sono andato per 35 anni che bellino Omega Seamaster 120 120 sì molto carino bel bracciale mi piace il bracciale questo l'ho fatto revisionare appena comprato perché non andava bene e ha il suo bracciale Seamaster inconfondibile se ne vedono pochi in giro devo dire il mio polso è molto piccolo sta molto bene non potendo permettermi un acqua a terra ho trovato questa soluzione diciamo un milione euro mi sono tolto lo sfizio mille corso di scelta no le 6139 lì del babbo tanta roba bello i orologi vintage no se hai timore di uscire di rovinarli li puoi indossare anche in casa io lo faccio lo faccio anche in casa però poi dopo magari ti devi mettere lì a lavarti le mani o a fare qualcosa tu lo devi togliere per sicurezza quindi ogni volta togli metti è un po' solitamente se ti metti sul divano a vedere una partita o qualcosa no un film track ti metti il torologino ogni tanto te lo guardi e perlomeno te lo godi in questo contesto se non vuoi utilizzarlo fuori l'ultimo Omega lì il Seamaster 120 bello molto bello anche lì dall'idea di come Omega no con la famiglia Seamaster è sempre stata un po' un orologio che sembra quasi un diver ma senza ghiera girevole 120-120 metri con il bracciale che poi sarà quello anche del di certi Seamaster 300 e che 1000 euro è pagato io io non ce li spenderei io sono sempre di quelli che troppo poi magari invece un giorno ce li spendo però dico non ce li spenderei 1000 euro un orologio così dei primi anni 2000 forse anche prima però è in dubbio che hai fatto un ottimo acquisto rapporto qualità prezzo bella questa frase qua è bella perché con 1000 euro c'è un orologio che è un Omega di quelli che probabilmente c'ha letta 2892 dentro non mi ha dato saperlo però presumo e li hai fatti tutti revisionare cioè c'è il bello che anche tutti gli orologini che hai il vintage non vintage neo vintage seco li hai fatti revisionare bravo complimenti perché significa che hai intenzione di mantenerli in forma anche lì si fa presto da prendere un vintage poi metterlo nel cassetto non sai se va se non va l'hai preso per per collezionarlo lì per averlo per il senso di possesso mentre invece se li fai revisionare significa che vuoi usarli e quindi tanto di cappello a te che vuoi usarli boh ragazzi mi sembra dopo aver detto tutto io spero vi sia piaciuto il video i video e il presentatore non che vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube laugh grazie a tutti Grazie a tutti.